Madrina di Antre Dos Mundos, Festival del Cinema Iberoamericano di Firenze, in programma fino al 21 maggio alla compagnia, la cineasta colombiana Cristina Gallego, conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo di produttrice di film di successo come Ionome Lamo Ruben Blades, The Abner Benahim e L'Avrazio della Serpiente, candidato agli Oscar come miglior film straniero e Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra, un film quest'ultimo che affronta uno dei temi cari a Cristina Gallego. Le conseguenze nefaste del colonialismo europeo, la lotta impari fra popoli arcaici, indigeni, definiti barbari per identificare genericamente l'altro da sé e le dominazioni di paesi cosiddetti civilizzati, proprio come nella sua Colombia. Sono partita dalla mia curiosità e dalla voglia di investigare tutto quello che si può trovare in Colombia sulla storia, sulle varie culture, sulle varie tradizioni. Un po' per i tabuc che ancora sono vigenti, un po' per un certo timore nei confronti di queste realtà. Quindi partendo da questo si sono relazionati sul tema e interessa molto come tema. Negli ultimi anni credo che in Colombia ci sia un rivolgersi a vedere tutta la sofferenza e tutta la realtà delle comunità indigene. La storia recente colombiana negli ultimi cento anni sono comunque una storia di violenza e di esproprio di terre, di sfollamento forzato dove le comunità sono state le vittime. Il termine anche di molte comunità, di comunità indigene e di comunità pobres, anche campesine, di minori. Cristina Gallego presenta a Firenze il suo film d'esordio alla regia Oro Verde c'era una volta in Colombia. Titolo italiano è di Pajaros de Verano, prima di tenere una masterclass aperta al pubblico. Un film che va ad indagare sulle origini del narcotraffico, una piaga che spesso viene identificata specularmente con un paese ben più ricco e complesso di questo fenomeno criminale. Per la prima volta raccontato, al di là degli stereotipi, da chi lo conosce e lo vive da vicino. Il cinema può cambiare questa visione stereotipata della Colombia? Claro, tutto il cinema colombiano è un fronte di questo tema. Quando ho girato Pajaros de Verano mi sono resa conto che c'era proprio un pregiudizio sul colombiano e sul rapporto che il colombiano ha con il narcotraffico. Ed è un colombiano che è un pregiudizio, un preconcetto che è stato inserito, a partire proprio anche dal cinema e delle storie che hanno raccontato su di noi e sulla Colombia. La gran parte è stata fatta dal cinema nordamericano. Lavorare sul tema del tabù e lavorare anche sulle origini del narcotraffico e come questo si sia poi sviluppato nella società colombiana. Waiting for the Barbarian è stato interpretato da un cast internazionale. La presenza di queste star può contribuire a superare la diffidenza verso le popolazioni indigene? Lavorare con le stelle del cinema è stata una scoperta per noi, è stato lanciarsi e fare un passo in più, ampliare, ingrandire la tematica, il discorso e anche imparare, imparare tanto. In questo film c'erano Robert Pattins, Johnny Depp, Martin Reigns. È una produzione che è stata girata da Sido Guerra, però la produzione è italiana. C'era Monica Bacardi e Andrea di Ervolino, la produzione messicana, Olga Segura, poi ci sono altre persone che vengono dell'estazionese invece. È una produzione molto grande, aprendendo molte cose da questi territori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.